Nell'ultima gara del 2016, l'Amen Scuola Basket a Rezzo non si lascia sfuggire il successo contro il Vismederi Costone Siena, conquistando due punti che lanciano gli Amaranto al secondo posto solitario della classifica con le sconfitte di Carrara e Pontedera. La vittoria, come oramai consuetudine per i ragazzi di coach Pacini, è stata costruita in difesa dove gli Amaranto hanno lavorato duramente per limitare Bruttini e le altre bocche da fuoco avversarie. Parte subito forte e la sbarca piazza un 8-0 che mette in difficoltà gli ospiti, punto dopo punto Siena rientra ma è sempre costretta a inseguire nonostante l'Amen non operi un break importante. Dopo il 15-8 del primo quarto, Bruttini porta i suoi sul 25-22 all'intervallo lungo, complice all'imprecisione dentro l'area pitturata degli Aretini. A rientro dagli spogliatori, la sbarca stringe ulteriormente le maglie in difesa, conquistando un mini-break che porta al 40-33 del trentesimo. Nei primi cinque minuti dell'ultimo quarto arriva il colpo del K.O. dell'Amen, Gramaccia, ben servito dai compagni, segna tre triple che portano a rezzo fino al più 17 con coach Binella che non trova punti dai suoi giocatori nella prima metà di quarto. Il finale permette a entrambi gli allenatori di schierare quasi tutti gli effettivi a disposizione prima che la gara si chiuda sul 60-43 con una tripla allo scadere di mini per il costone. Comprensibile soddisfazione in casa Amen per un successo che tutta la squadra ha fortemente voluto e che comincia a scavare un piccolo solco nei confronti delle parti basse della classifica, merito di un gruppo orchestrato da Pacini che ha saputo in questa prima parte di campionato mantenere un livello di concentrazione molto alto, sopperendo con la determinazione e l'organizzazione difensiva ai momenti di difficoltà che si sono presentati. Alla ripresa del campionato l'Amen sarà di scena terra nuova contro Lotti dell'ex coach Baggiani, ma per preparare questa gara ci saranno tre settimane dove sarà fondamentale continuare a lavorare in palestra con l'intensità vista fino ad oggi. Mario Pacini, un'analisi di questo, il riassunto di questo incontro, contro gli amici, i nemici di sempre, sportivamente parlando, se ne è? Partendo, certo, no, tutte le partite nascondono delle insidie, questa è una partita che come avevo detto anche ai ragazzi e a Simone e a Massimo nascondeva solamente insidie perché se si fosse vinto era normale, se invece si fosse perso sarebbe stata una mezza tragedia e quindi bisognava approcciarla in un determinato modo, però i ragazzi in settimana sinceramente mi avevano dato abbastanza conforto e questo poi si è dimostrato anche sul campo. Fa piacere chiaramente vedere Gramaccia che fa il solco, che fa canestro e che distanzia ulteriormente Siena. Fa piacere vedere Spillantini che ha sempre di più in mano la squadra e si dimostra un acquisto veramente importante per la squadra. Fa piacere la determinazione che i ragazzi ci mettano in tutte le partite.